Inizia la sua carriera artistica all'età di 15 anni e, dopo qualche anno, gira l'Italia con un'importante compagnia teatrale di allora. Partecipa al Festival di Napoli 1965 in coppia con Mario Merola con il brano Tu stasera si pusi il lecco. Nel 1966 Enzo del Forno partecipa nuovamente a questa manifestazione. Stavolta in coppia con Vito Russo e i Quattro Conni con la canzone intitolata Diciot-Iran. Parteciperà inoltre anche al Festival di Napoli 1970 in coppia con Nunzia Greton con il brano Suonno Doce, poco prima della morte, avvenuta prematuramente all'età di 69 anni. Enzo stava preparando il suo ultimo disco che però non riuscirà mai ad incidere. Dalle ceneri di questo lavoro, il nipote Alfio Lombardi, anche egli cantante, pubblicherà nel suo album Preghiera un duetto con il defunto zio nel brano e cancelle.